Mancano due mesi al prossimo appuntamento elettorale degli amministrative delle europee. A Pescara i partiti sono già al lavoro per le comunali, tra riunioni organizzative, composizioni delle liste e strategie per le alleanze. Pomeriggio di lavoro ieri per il Partito Democratico, riunito per giungere alla composizione delle liste da mettere in campo contro il ricandidato sindaco Carlo Masci nel centrodestra. Al Tg8 Nicola Maiale, segretario provinciale del PD di Pescara. Stiamo facendo un punto organizzativo con i nostri eletti a tutti i livelli, i nostri rappresentanti istituzionali, prima di dare vita all'Assemblea del Partito Democratico che si farà nel corso della prossima settimana. Stiamo cominciando a ragionare su come costruire la nostra lista alle amministrative del prossimo giugno per far sì che ci sia una lista forte rappresentativa di tutti i mondi della città, quindi il volontariato, dell'impresa, del lavoro, che sia una lista di rappresentanza e di forza che ci consenta di ambire ad amministrare Palazzo di Città. Al lavoro anche azione, che sempre nel pomeriggio di ieri si è riunito a San Giovanni Tiatino. All'ordine del giorno del direttivo regionale allargato, l'analisi politica del risultato delle elezioni regionali, il posizionamento politico per le elezioni amministrative e le prossime elezioni europee. Giorno Sottanelli, le amministrative si avvicinano, in Abruzzo si vota in tanti comuni importanti, prima fra tutti quello di Pescara. In questo direttivo già uscirà fuori qualche elemento? Il direttivo sicuramente farà un'analisi molto attenda del voto e certamente siamo contenti del risultato. Saremo anche, oltre all'analisi, a valutare tutto quello che sarà il nostro contributo futuro a livello politico. Certamente Pescara è un comune importante, siamo partiti nel provare a replicare il patto per l'Abruzzo, anche per un patto per Pescara. Ad oggi le condizioni non ci sono e vogliamo aspettare ancora qualche ora per capire se qualcosa è cambiato. Altrimenti saremo costretti a valutare un progetto diverso, magari con la nostra proposta a sindaco. Vettore Rosato, c'è da guardare in prospettiva sulle europee? Noi andiamo con la nostra lista, la lista di azione, che sarà una lista aperta, quindi aperta anche ad altri contributi, ma essenzialmente con una proposta politica, che è quella dei liberali, liberal-democratici, con una forte determinazione a dare un contributo in Europa per avere più Europa, una maggiore efficienza dell'Europa, per avere una maggior capacità di rispondere alle sfide esterne, che sono enormi. Non c'è solo la guerra in Ucraina o quello che succede in Medio Oriente, e lì ci deve essere una risposta unica da parte dell'Europa. Ma c'è anche la grande sfida che rappresenta l'Africa. Nel 2050 avrà una popolazione doppia di quella attuale. O l'Europa è capace di rispondere in maniera seria a queste cose, o subiremo uno spostamento dell'asse delle decisioni dall'Europa, che per noi resta il centro, ad altri luoghi, tipo l'Indo-Pacifico, dove ormai anche l'economia tira in maniera molto forte e l'alleanza tra i paesi che sono lì dimostra la sua efficienza.